Amore, quel Filippo, quell'amico mio che ti dicevo, no? Cioè, assurdo, non pensavo che abitasse da noi, veramente. Sai che mi ha detto? Che cosa? È riuscito a contare quanta presenza femminile c'è nel nostro stabile. Ah, e quante siamo? Siete 20. Da bellissimo. Tu immagini, amore, che mi ha detto che su 20 donne se ne è fatte 19. Si è fatte tutte tranne una, amore. Sai chi deve essere? La signora del terzo piano, quella partorito da poco. La signora del terzo piano, quella partorito da poco.